Salve a tutti ragazzi, io sono Bertra e bentornati su Bertra Reaction. Oggi siamo qui con della gente che si fa del male, perché sì, mi fa ridere. E niente, prima di partire come al solito, iscrivetevi, lasciate like, commentate dicendomi a cosa vorreste vedermi reagire. Trovate gli altri social in descrizione, sono in live dal lunedì al giovedì con gli amichetti. E c'è anche la wishlist, se volete farmi un regalino. Più che un regalino, aiutarmi a far andare meglio il canale. Partiamo. Oh, una bella gara di corsa e lui... Chi è che ha deciso di fare una bellissima gara di corsa con la gente vendata? Dio che stecca! Gnom! Sì! Questo era fatto apposta, io non ci credo che non è stato fatto apposta, perché il tempismo con il quale lui fa i e lei fa schtum! Da film comico. Era convinta di vedere il suo fidanzato e invece ha lasciato 32 denti stampati direttamente sul marciapiede. Non ha dovuto neanche operarla, le ha messo la dentiera diretto. Cosa sta facendo? Perché sta trapanando... Io quando, quando io e lei e allora io e lei, allora io, io quando e lei e poi allora io... Assolutamente. Ah! Tunk! Sulla pianta... Perché? Ma quanta rabbia, povera piantina, gli stanno facendo i cazzi suoi! Sei tu che non sai dove mettere la testa e ti incazzi pure con la pianta. Basta la violenza sulle piante. Gli arriva in bocca, secco. O nelle palle. Porca troia! Che buco perfetto! Madonna! Che rosicata! Questo è il tiro più costoso della sua vita comunque. Tipo 500 euro di tiro così. Anche di più, è una vetrata enorme. Minchia, proprio... Stuck diretto nel palo, non c'ha neanche... Non ha neanche provato a curvare, ha fatto... Non può finire male questo, no. No. Donna con una motosega accesa! Madonna quanto sarebbe potuto diventare un film horror secco questo! Caduto con una motosega in mano accesa, non vedo come possa andare male. Non ne ho idea. Comunque, complimenti perché era sulla scala chiusa. Così si usano le scale, così si lavora in sicurezza. Un eroe. Ciaddissimo. No, no, si smonta il nonno. E in realtà no, il nonno non si è smontato. Io pensavo si staccassero le braccia tipo osteoporosi di colpo. Pram! Invece era fatta male la zipline. Povero papa! Pesce gigante! Pesce gigante si vendica! Povero pescetto! Cioè pescetto, peserà come medio bano, però povero. Oh! Cosa sta facendo? Oh no! Oh s***! Madonna! Di tutti i posti dove poteva stamparsi il forno. Non un mobiletto, non il muro. Il forno, il vetro del forno. Il bro è in ufficio con una mazza da baseball. Oh my god! Ciao! 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 Ma cos'è? Uno scogliattolo, bro? È un fottuto scogliattolo, va bene che ti dia ansia, ma perché hai una mazza da baseball e urli? Ah! 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 Così. Oh, oh, lo scatto felino, signori. Ah! 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 Ha riso così, invece di aiutarlo. Ah! Coglione! Oh! Signori, il bar. Che cazzo c'è? Un bunker anti-atomico? No! Ha ventato! La barista! La barista ha ventato! Mogus! Oh! Bellissimo il quad minuscolo. Che investe la gente. Eh, lui stava facendo così. Questo è quello che ti meriti. Un bel pallone in bocca. Vuoi il mio pallone in bocca? Tizio in macchina schizza su quattro ragazzi. Basta. Basta. Orca mierda! Che stecca nucleare! Perché c'era il culo censurato in tutto ciò? Voglio capire perché c'era il culo censurato, ma vabbè. Lo scatto felino. Secondo me era vagamente ubriaco, ma comunque, porca droia! Che stecca! Il gatto! Gatto feticista dei culi, gatto feticista dei culi che arriva e... Ha fatto così palesemente, è per questo che lui si è spaventato perché gli ha fatto... Fammi annusare. Scusa, chiede scusa! Madonna, ma che cazzo c'ha sto gatto? Mamma mia, quietati! Ha distrutto casa, ma cosa c'ha quel gatto? No, il cibo sul legno. Dai, è tristissimo il cibo. Certo, se metti gli spaghetti nel piatto piano un po' te lo meriti. Però il cibo, no! Che tristezza! Cosa sta facendo? Lancia... Cos'è? Cos'è? È una falena? Madonna, raga! Se però fosse arrivato... Non lo so, uno zombie! Oh, quel camion sta andando. Ciao camion! Che cazzo ha fatto? Com'è possibile? È decollato! E si è appoggiato gentilmente sulla casa, ha fatto... Eh, madonna! Che mattinata! Per tutti! Anche il pallo della luce che è decollato. Sciabolata! Madonna! Che cazzo ridete? Era una bottiglia di vino da tipo... Boh, mille euro, erano dieci litri... E questo cretino l'ha distrutta! Va, 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 va! Che cazzo di animale! Che animale! Non ce la faccio. No, quasi. No, no! Ha deciso che se doveva andare giù... Sarebbe andato giù insieme a lui. Non da solo, vaffanculo. Vieni con me. Signori, momento PlayStation 5. Si è vagamente incazzato. Questo è camper quando gioca a Ultimate Team. Quando giocava. Comunque, vi giuro... Che io questo mi aspettavo che il piede si piegasse fortissimo e si rompesse. Poi, effettivamente, a YouTube. Negli ultimi giorni su Instagram mi escono ste cose terribili. L'altro giorno, la mia ragazza mi ha mandato sto cazzo di video. Io non lo volevo vedere. Di uno che si allena facendo piegamenti con il disco sulla schiena. Figa, gli casca il disco sopra sul dito. Lo tira su, c'è il dito tutto piegato. E io ho detto, porca troia, ma dovevo vederlo? No, non volevo! Perché? E poi un altro che mi è uscito a caso di uno che fa un kickflip con lo skate. da altissimo, atterra, resta su perfetto e poi ha un piede completamente girato. Oh! Momento motoretta. Momento motoretta fango. Beh. 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 Cristo, non è un buco, è un fossato. Vedi l'Australia da lì? Come cazzo fa a essere così profondo? Raga, affoga la moto. Affoga lui e la moto. Ma aiutatelo! Sta per volare via. Ciao! Oh, dai. Almeno non è volato in acqua. Beh, ridere, ridere, ma se cadi sugli scogli così ti raccolgono a pezzi, cazzo. Oh. Oh mio... Cosa è successo? Ma il vento? Si è capottato per il vento. Ma che cazzo? Voglio andare lì con un aquilone. E decollare verso l'infinito e non tornare mai più sulla terra. Oh, un altro sulla costa? Vai, è il momento di qualcuno che finisce in acqua? Ciao. Bagnetto versione... Versione Ford. Ford vasca da bagno. Il nuovo modello. Arrivato l'omino delle pizze. Minchia, le voglio anch'io le pizze. Beh, che dire? Niente mancia per oggi? Certo che è che quella porta è stata costruita col culo. Cioè, chi è che l'ha montata topo gigio? Tenuta insieme con la gomma da masticare usata che trovi sotto i banchi di scuola? Come fa a stare in piedi così male? Cosa sta... Cosa sta cercando di fare? Una rapina? Sta cercando di rapinare una casa? Cosa sta infrando un cacciavite gigante? Ecco, infatti. Sta davvero cercando di fare una rapina? Per favore, andatevene. No! Era una pizza gigantesca. Era enorme quella pizza. Raga, era gigantesca. Oh, oh, oh. Una macchina che sta andando in un fosso di brutto. No, mo' decolla. Le auto non devono stare in quella posizione, tanto meno a mezz'aria. Di questo sono abbastanza sicuro. Ve lo giuro. Un irlandese che tira la pattumiera alla banda musicale inglese. Eh, degli irlandesi sono irlandesi. Madonna, stanno andando a prenderlo! Stanno andando a prenderlo! Stanno andando a prenderlo! Madonna! Oh, oh. Madonna, la madre di ogni frittata questa. La più grande frittata mai vista in tutto il mondo. Frittatissima. Camioncino nella neva. Parli semente russo. Sa di... Beh, non era neve, era un lago ghiacciato. Bel modo di scoprirlo, immagino. Oh, oh, oh. E la madonna! Quanto va giù! E nuota lui. Poraccio, sto strozzo voleva attraversare. A tutti i costi. No! Che merda! Davanti al cestino! No, dopo questa devo chiudere. Ciao ragazzi, non ce la posso fare.